E ora vai Verona! Voi abbiamo detto, cucciolo solo bambini, solo messaggi di bambini. No, 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 cucciolona. Cucciolona,ецcciolona, poi vi spiegherò perché. Voi dovete fare i cavoli vostri. Il tuo momento te lo gestisci tu. Cucciolona, come sta un muro triste? Abbattuto, abbattuto. Giù di Morales. No, beh, meglio abbattuto. Giù di Morales, un muro, Giù di Morales. Dai, bellissimo. quelle sonore quelle sonore sono le più belle le più belle di tutte come fa il campanello a casa delle scimmie King Kong ride di cuore ride tanto 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 anche Gesù non riesce a tenere la telecamera per quanto ride immagini mosse come si chiama una ragazza molto riservata allora si chiama che ti importa questa è scontrosa un po' scontrosa è un po' veronica come si chiama un quadrato senza lati questo è bruttissimo quadrato senza lati quattro punti quadrao questo è un po' cruciverbo perché poi carina carina mi hai peggiorato la giornata come si chiama il matematico più veloce a fare i calcoli questo è facile adesso è insomma calcolo calcolo contabile contabile abile a fare i conti ve lo devo spiegare trio no non ce le dovresti proprio dire questo proprio non mi arriva neanche perché è abile a contare quindi contabile pensa alla polemica che mi ha alzato in questa come si chiama pensa perché la devi dire per forti perché si come si chiama il film che ha come protagonista il cane più stanco del mondo ronfonfon no l'estanco l'essis l'essis torna a casa l'essi casa l'esse casa l'esse torna a casa l'esso allora no l'essi eh no perché anche l'essi lo devi mettere dentro quindi torna a casa l'esse no allora torna a casa l'esse no perché col cal'esse torna a casa l'esse casa l'esse cal'esse cioè capito poi se uno mi deve spiegare squelli squalli no fanno cagare piegatura grazie grazie poi intervenite voi vi prego vi prego vi prego è un appello come si chiama il pesce che canta oh il pesce che canta si chiama tempo di sapere non voglio parlare il gusto di più allora la balena no la albalena no elton john elton john no allora di elton elton john allora fate un po' me se sono brutte le dici anche male come facciamo non arrivano guarda quanto ride elton john aspetta mi voglio e te l'immagini con gli occhialoni a forma di stile elton john elton john a ritorno 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 Grazie a tutti.